a tutti oggi vi faccio vedere una strada che non è molto importanta da noi però che non è praticamente utilizzata e che è veramente interessante per quanto riguarda gli aggiunti la strada che da un salvimento Amazon è una porta sulla Pesichina, però è una strada interna, andiamola a vedere Grazie a tutti 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 Grazie a tutti